Come ogni anno, importante è il resoconto dell'anno appena trascorso e le aspettative per il nuovo anno, fornite dal comandante provinciale di Lecce della Guardia di Finanza, dottor Stefano Ciotti. Ma il 2022, ormai al termine, è stato effettivamente un anno di ripresa economica, anche se durante questo stesso anno ci siamo dovuti poi confrontare con tematiche che fino a qualche mese fa non sarebbero state neanche lontanamente immaginabili. La guerra russo-ucraina, infatti, oltre all'ovvio sgomento per avere un conflitto alle porte di casa nostra, ci ha costretto a confrontarci con tematiche come quella del aumento del costo dell'energia e delle materie prime che hanno avuto e stanno tuttora avendo un forte impatto nel processo di ripresa economica del Paese e del territorio salentino per quanto ci riguarda in particolare. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, invece, l'attività è sostanzialmente tornata ai livelli anti-Covid su tutti i settori di competenza, senza eccezione alcuna, dal contrasto all'evasione fiscale al sommerso di lavoro, ai controlli in materia di spesa pubblica, con particolare riguardo alla gestione dei bonus edilizi, dall'attività anti-riciclaggio alla lotta alla contraffazione, dal contrasto alla criminalità organizzata al contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.